sulle mani sulle mani sulle mani tutti siamo alla talk se io sono alla talk tutti quanti siamo talk ci divertiamo alla talk e bebbiamo alla talk poi ci sto se ci sta faccio un live su instagram ci divertiamo bebbiamo insieme chi sbaglia paga in giro il motorino un pubblico con il vino noi stai già la fratello passiamo a Brescello e poi se insieme a me tu non vedi sono un re il coronato è il maestro delle tenebre tenebre ah cu de priz buongiorno a tutti sono qui a fumarmi una sigaretta e mi sto prendendo un bicchiere di vino che mi ha offerto qui Pizzo saluto al manager Alessandro ciao Ale un po' non si è andato bene dopo e sono venuto cioè passavo di per caso giustamente e mi ha chiamato l'amico Pizzo e mi ha detto Romolo vieni qua che ti offro un bel bicchiere di vino anche tu vieni ecco qua c'è anche per te vieni oggi al mio amico Pizzo gli ho regalato un bel fustone di vino alla doc Pizzo come era il vino? era buono? numero uno bianco rosso non si sa vino di casa non 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 puoi comprare vino così negozio no solo vai a casa chi prepara e e come doc vino come doc numero uno numero uno 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 facciamo ciumbrini sì Pizzo vieni qua alla nostra salute ragazzi saluta Pizzo ciao a tutti buonasera a tutti buonasera a tutti alla doc con Romolo io giustamente ero a fare un aperitivo con dei con degli amici giustamente e ho detto vabbè e su giustamente ci sta un aperitivo prima di fare una cena ci sta un aperitivo ma da un aperitivo hai due aperitivi tre aperitivi quattro aperitivi e no ho detto io ora me ne devo andare ma sì un altro aperitivo perché poi io mi mantengo già nei limiti perché giustamente se devo fare il video doc per regalarvi un sorriso giustamente devo stare dai dai e giustamente stasera il mio la mia cena è composta di prosciutto cotto alto adige di collina ma ma dai e mozzarella di bufola ma dai crudo crudo e mangiare dai male che gessica dove stai vieni qua vieni qua gessica e miau 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 fai vedere le persone come sei bellissima bella gessica vai a giocare papà vai io la voglio bene come se fosse la mia figlia perché lei per me è una figlia voi dite ma come è tua figlia da dove l'hai fatta io quella l'ho cresciuta da piccola quella quando ce l'avevo io jessica era piccolina così come si fa a non volere bene a un animale ragazzi se ci dobbiamo volere bene tutti quanti noi esseri umani figuriamoci se lo vogliamo bene agli animali voi dite ma tu ora stai mangiando il prosciutto cotto perché questo viene da un animale ma l'animale che noi mangiamo sono animali da macello bene e ora ce lo stai io mi mangio il mio piatto alla doc prosciutto cotto al toalige di collina il mio lambrusco mantovano dai dai un saluto speciale a tutti quanti alla doc amici amiche fratelli sorelle io sono dei fratelli e ho anche una sorella però vi sto considerando che qui siamo tutti fratelli e sorelle amici amiche signori e signore ragazzi ragazzi bambini perché i bambini i bambini a me mi vogliono bene come io voglio bene a loro e voglio bene a voi fratelli e sorelle un saluto speciale a tutta l'arma dei carabinieri perché i carabinieri sono anche amici miei carabinieri vigili urbani un saluto speciale anche alla protezione civile alla doc perché chi che non conosce chi è che non conosce ma secondo voi chi non mi conosce a me mi conosce tutti qua tutto il mondo sicuramente si si tu capisci pensate che non lascio ah 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 giustamente bisogna avere rispetto e onore per tutti quanti io rispetto tutti quanti giustamente rispetto anche me è certo che anche il maestro può anche sbagliare se sbaglia il maestro giustamente viene punito dalla legge ma se il maestro lo sbaglia non viene punito e infatti noi noi per dire noi dobbiamo andare d'accordo tutti quanti alla doc perché se non andiamo d'accordo tutti quanti alla doc ma dai fa scald fa scald e quando fa scald ce la stacce ce la stacce ce la stacce un mangiare un dras e va pure cioè che si fatti aprirte io ma mangiamo dai ma mozzalena di bufala ma mai ma ma mai ma 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 che la stacce ce la stacce ce la stacce ce la stacce e mangiare ma 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 allora sapete cos'è? è la tovaglia nera la tovaglia nera a me mi piace perché se sono il maestro delle tenebre la tovaglia nera ci sta però a me mi piace la tovaglia nera e che me l'ha regalato il granissimo cischi alla doc e niente mo siamo su cotto madonna me cotto e mangiato alla doc prosciutto cotto al toalice di montagna va va ha ricotto e sta mangiando a me no vabbè poi non lo sappiamo se la mozzarella è un crudo perché secondo me la mozzarella è crudo perché il latte ce la sta ce la sta o crudo o cotto se non me lo frega a me basta che si mangi dai no 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 faccio un uccardo? c'è ora mi ha pesato la dosa ma dai roba e tutto mi ha pesato la dosa ah ma dai roba e tutto mi ha pesato la dosa ma io mi riprendo Oggi come oggi mi sono andato d'accordo con tutti quanti, con tutti, perché qui siamo tutti esseri umani e se siamo esseri umani ci dobbiamo volere bene all'ad hoc con tutti ma dai draai oh dai ma dai non 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 va non non...non come mañana fai carne fatemati in 15 gradi e noi ci arriviamo a fa 40 gradi come stiamo puzzando? dai! madonna me io sto sudando ma non puzzo però una dose mi lascio a fai a culo di prigio io metto a lavare perché io sto considerando che sono a contatto con della gente io esco io esco eeeh le persone sono gli chieffi mmmm non l'altro mai perché io sto un maestro delle tenebre e voi siete i miei discepoli delle tenebre magari come l'ho fatta ho cotto i ricruti e non me ne frega a me passate a mangi mmmm Questo è giusto per regalarvi un sorriso perché il sorriso come lo regalo io non lo regalo nessuno lunga vita al grande maestro Romolo quest'estate avete delle sorprese perché il grande maestro gli farà divertire più del solito l'acqua della moscarea la devo secchiare bene molto che posso la trovata tutta l'olio tutta l'olio tutta l'olio tutta l'olio tutta l'olio questa qua sai che faccio dopo domani non vedete domani penso di più domani scusatemi poi domani non lo faccio più ma che tanto due ruts tre ruts ma se me la frega mai oh do amare iddo siamo a divertire qui dobbiamo ridere qui ci dobbiamo divertire dobbiamo scherzare ci dobbiamo vedere ci dobbiamo incontrare assolutamente io vi voglio bene però assolutamente io vi regalo un sorriso prontamente io vi voglio incontrare e come ma fa prima o poi avrò una grandissima gran lotta flotta una bella flotta di ragazze signore signori e ce la sta ce la sta facciami un bicchiere di me a me stasera assolutamente dobbiamo salutare oggi voglio prendere il bicchiere del lupo alla doc perché il lupo ogni tanto il lupo va di scena stasera salutiamo un saluto speciale grande alla doc non dimentichiamoci mai del manager alessandro da e tutti i gruppi tutti un saluto speciale stasera a robertino midollo e giovanni carabonini carboni allo dallo a levandolo e poi faccio un 15000 di display peso minuti perché perché sicuramente io poi devo andare a fare un piccolo motore e non posso andare a piedi e ora mi faccio un bel litro d'acqua ghiacciato e ora mi faccio un bel litro d'acqua ghiacciato e ora mi faccio un bel giretto madonna meee io vi ringrazio come sempre più di prima vi amerò e che vi devo dire ci aggiorniamo domani per un altro calore e affa do merda come la merda se trovo tipo lato va pure io vi ringrazio come sempre più di prima vi amerò e ci aggiorniamo domani ma dai aiuta l'utena ma dai ma dai ma dai ma dai ma dai eccolo qui il treno il treno è passato dai e ci aggiorniamo domani come sempre più di prima vi amerò dai ma dai ma a tutte questo bacio lo dedico a tutte le ragazze tutte tutte e tutte ma 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 ma